Ed ecco qui, ci eravamo fermati dopo aver distrutto uno stormo di aerei grucchi e stavamo inseguendo un piccolo crocchetto che è scappato dai nostri ai nostri missili letalissimi. Quindi vediamo dove ci porterà. Ah no, lo stiamo seguendo. Ora ci portano nelle linee nemiche e ci fanno un... e ci prendono schiaffi con i missili, scommettiamo. Appunto, ha al diavolo la base. Questo, aspetta, mi sembra un po' la storia del barone rosso, roba simile. Ma sai? Quello conta come un headshot, cavolo. Quello conta come un headshot. Allora tu spari dietro mentre io volo nella cazza, va bene? Va bene. Guarda un po'. Ma ti porti dietro le macchine fotografiche in guerra? Eh, fin... non male. Mi sembra la storia del barone rosso? No, no, l'era cruco lui. Mi sono confuso. Stai bene. L'era come sta? Ci mancano sei ali, ma va bene. ...conservavano le munizioni di metà del fronte occidentale. ...la foto di Wilson avrebbero permesso di organizzare un assalto. Cioè, ha solamente un problema. ...non ne sono sicuro. Che? ...siamo stati davvero grandi. Ci daranno delle metà. Eh, non ne sei sicuro, ma meglio... ...non ne sono sicuro, ma meglio... ...quando il comandante... ...quando il comandante... ...la foto non mi importa. Ah, ok. Possiamo fare un assalto, distruggerli e le fortuitissime a base. Ma perché eravate lì? Che cazzo te ne frega? Ok, quale è la promessa? Sì, dipende come. Sì, sì, ok, va bene. Non ho specificato come, però ti mando per posta ora. E non combinare guai. Esatto. Ma... Ingenue non lo so, magari è un po' troppo imburosa? Eh. Mmm. Beh, sì, siamo sfuggiti per poco, eh. Non... Ma vero? Abbiamo addirittura fatto un headset con la ruota. Dovevamo aprire la strada i bombardieri affinché facessero saltare in aria la fortuna. Questo suono pericoloso. Come ogni cosa. Ah, i palloni da sbarramento. I palloni da sbarramento. Mmm. Credo già di capire come fare ad abbatterli. Dovevamo eliminare tutte quelle difese per poi scortare i bombardieri sul bersaglio al loro arrivo. Non sarebbe stato facile, ma una bittoria avrebbe potuto mutare il corso dell'intera guerra. Beh, in effetti. Butto giù già i palloni, io, eh. Whis non era molto contento. Eh, gli ho sparato fino a mezz'ora fa. Fanculo i bomb... Fanculo... E come dire... Fanculo quelli che ci sparano. E vabbè, non cominciare a fare il bacchettone. Via. Senti, prima buttiamo giù i palloni e prima risolviamo questa maledetta situazione. Ah, già in cosa ci arrivano? Dannato bastardo. Vieni qua. Per poco mi scantavo. Lo ammetto. Non sono un asso. Sì, il personaggio lo è, ma io... No. O almeno per adesso. Dove? Subito. Distruggi la contraerea. Esa... Stavo pensando anche io di usare i missili. Lo sapevi? E queste due sono andate. E... Anche quella è andata. Tutte e due? Wow. Non mi metto a ripararlo ora. Ricarica, aspetta. Butto via i due... Come dire... E via su. Lo so, lo so. L'ho mancato uno, l'ho mancato. Ma dovevo buttare via i missili in qualche modo. Ecco. E via. E quello? E via un altro. Altro. E solo due. Quello lì tentava di farsi un attentato. E anche questi due sono andati. Ho detto che anche questi due sono andati. Oh. Ah no. Ah, ok. E' più semplice di quanto mi ricordo... E' più semplice di quanto sembri. O almeno per me. Ora che abbiamo battuto la contenere, i bombardieri sono pronti per buttarli lì. Avete capito. A meno che non arrivi... Ah, mi sembrava stra... I caccia. Ah, quei caccia lì? Proteggi la formazione. E fanno bene a prendere di mira noi piuttosto che... Piuttosto che i bombardieri. Che dici? E ora si schianterà in modo tragi. Schiantati brutto strontetto. Quello lì lì in fondo prova a prenderlo ma non mi garantisco nulla. Sto sparando per lo più alla c... Ho sparato all'alliazio! Ah, conta come c'è... E tu che ci fai qui, scusa? Con chi non c'è l'ansia mi è venuto in fianco tutto... E alla fine, e alla fine abbiamo visto come è andato a finire. Sì. Allora mi dice che è un alleato nei guai. L'ho battuto io. Eh, l'ho battuto io. Kill mia. E anche quello in fondo. Dai che lo butto giù. Fuoco nemico! Fuoco nemico alle spalle, scommetto. Eh. Sti qua ti backstabano, eh. Mi dice che i bombard... Ah, ma quella in alto è la fortezza? Pensavo fossero... Fosse la vita dei bombardieri. Dobbiamo... Attacca i caccianemici. Eccone uno che se non... Ah no. Sì, 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 è quello lì, è quello lì. Esattamente. Mi dimentico di guardare la vita delle aeree. Va a finire che... Che... Cosa perché? Perché... Siamo in mezzo ai cacci... Beh, anche normale. Un attimo che mi fermo a riparare. Non attaccatemi. Non ho detto non attacca... Chi è lo stronzo che mi attacca? Io adesso vengo a prendervi a casa voi. Ah! Le avete rifatte? Che gran peccato. Qua ne ho buttati tanti. Sì, io dovrei attaccare i caccia più che altro, eh. Ma io sto a perdere... E beh, attaccare i caccia, ma devo sopravvivere prima di attaccare i caccia. E vai giù, a meno tu. Vabbè, andrà giù adesso. Un secondo... Vedo del fumo che... È nostro? È nostro il fumo? No, questo qua è l'alletto. Sì, è un po' un casino vedere... Vedere i combattimentieri, però... Però ne vale la pena. Vedete che casino che c'è. Ma la guerra è tutto un carino. Prossima... Ah, ok, bombardieri, bombardieri, veloci. Proteggi la formazione, soprattutto da... Allora, se sento che una cosa antiaerea mi spara, io vado lì e... Non attaccate i bombardieri. Dai, quello come fa a essere ancora in piedi? Se prende fuoco vuol dire che deve andare giù. Punto e basta. Non è che può tirare lì una secchiata d'acqua e sistemare tutto. Questo qui ha fatto una pessima scelta. Questo qui... Questo qui forse anche peggio. Mi è passato in fianco con una nonce lance totale. Ecco. Ecco la fine che fanno. Guardate, li vanno quasi alle mie stessa velocità. Fermo qua. Non schiantarti, non schiantarti. Non moriamo, però. Non schiantarti, ti prego. Sì. Ah, è vero. Io guido, lui spara. Infatti mi sono detto, ma l'ho mattato io? Tu che vuoi? Poi mi sono ricordato che... Stiamo perdendo vita a un rateo quasi mostroso. Stavo per dirglielo anch'io? Un secondo che riparo. Non siamo ancora morti. Con il carromato eravamo già morti invece a sto punto. Ma annaggia. Distrutta. E che figata. Siamo riusciti a sfondare le loro difese. Ora vedremo come andrà a finire l'assalto nel prossimo episodio. Quindi spero che lo seguirete tutti. E ci vediamo al prossimo.